Ciao sono Cristina, sono una guida ambientale e questo corso ritengo sia stato molto molto interessante non solo per comunque cominciare ad immergere in una nuova professione ma anche per arricchire la mia quindi trovare una metodologia molto bella sia per quanto riguarda la mia stessa professione ma anche per poter promuovere un territorio un'esperienza in una maniera con un metodo io credo sensazionale